Penso che questa stagione non sarà facile perché dopo la retrocessione non è mai facile, ma sono venuto qua e ho trovato una grande società, una squadra forte, quindi speriamo bene e dobbiamo dimostrare la nostra forza al campo. Io preferisco giocare sempre a difensore centrale, diciamo che questa è la mia posizione principale, ma sono sempre a disposizione di allenatore, quindi a Palermo, pure prima a Polonia, quando il mister voleva giocare a terzino, specialmente destro, non c'era problema, a volte facevo pure terzino-sinistro, ma questa è altra cosa, diciamo che io preferisco giocare sempre a difensore centrale. Sì, però sono due settimane qua, non è tanto, tutte e due squadre, questa l'anno scorso al Palermo e pure questa qua al Frosinone, sono molto forti.